Sto smettendo su www.letteralmente.info Letteralmente Radio Studio 3 Cristina da Firenze Ricetta del cuore Bietola stufata con funghi Due cucchiai di olio extravergine d'oliva Due spicchi d'aglio Cinque funghi abbastanza grandi 800 grammi di bietola, timo, sale Un cucchiaio di farina di frumento semintegrale Scaldate l'olio in una casseruola Aggiungetevi l'aglio sbucciato e tagliato a fettine Fatelo saltare per qualche istante mescolando e aggiungetevi i fughi Precedentemente puliti, lavati sotto acqua corrente Ben asciugati, tagliati anch'essi a fettine Dopo qualche minuto di cottura a fuoco allegro Abbasate la fiamma, coprite la pentola E lasciate cuocere per una decina di minuti circa Nel frattempo pulite la bietola, lavatela, asciugatela e tagliatela a pezzetti Poi unitela ai funghi, aggiungete un pizzico di timo, salate Unite anche un bicchier d'acqua, coprite con un coperchio Lasciate cuocere ancora per un quarto d'ora circa Quindi cospargete con la farina E lasciate sul fuoco per 5 minuti prima di portare in tavola Grazie a tutti